Un altro caso? Buongiorno Eleonora, noi siamo ancora davanti al cantiere, il luogo in cui è stato ritrovato il corpo di Sara. Ricorderete la vicenda di Sara, la donna che era scomparsa il 4 dicembre da Avigevano e poi il cui corpo è stato ritrovato la settimana scorsa all'interno appunto di questo cantiere, all'interno del vano che doveva contenere l'ascensore. Questo palazzo, Eleonora, abbiamo scoperto che è in queste condizioni ormai da quasi dieci anni, era in costruzione da tempo, poi i lavori erano stati sospesi ed è diventato nel corso del tempo un luogo in cui si rifugiano i senza tetto, i senza fissa dimora, o meglio si rifugiavano, naturalmente adesso è sotto sequestro, e questo è uno degli elementi su cui si sta lavorando. Ricordiamo la storia, Sara quel giorno litiga, discute con il compagno, Sara è una ragazza di 40 anni che vive in Italia da 3 e vive in casa con questo compagno che ha conosciuto tramite un'applicazione di incontri su internet, è venuta a conoscerlo, è venuta a vivere con lui, si è trasferita qui, lei è di origini eritre, ma in realtà vive in Olanda, decide di venire a stare in Italia, non ha rapporti qui, non ha un lavoro, cerca di ambientarsi ma fatica a ambientarsi e quella sera discute con il compagno perché comunica al compagno l'intenzione di andare via, l'intenzione di tornare in Olanda perché non si trova bene in questo luogo. Non ci sono, a quanto pare, e da questo punto di vista ci sono stati molti riscontri, non c'è stata una lite violenta ma soltanto una discussione al termine della quale lei ha deciso di andare via, lei è uscita di casa, erano le 22.30 ed ha cominciato a camminare secondo la ricostruzione, dopodiché di lei si sono completamente perse le tracce, l'uomo va a fare la denuncia, quindi in realtà lui subito ha il sospetto che sia successo qualcosa, che sia accaduto qualcosa, vengono avviate delle ricerche nella prima fase, forse neppure troppo attente perché si pensa che lei possa essersi allontanata volontariamente, in realtà poi purtroppo, come dicevamo, il suo corpo viene ritrovato all'interno di questo cantiere dove tornano a lavorare gli operai dopo tanti anni nel corso di un sopralluogo viene trovato appunto il corpo. Perché dicevi così, Parsi? Da quella stessa sera. Perché dicevi così, Maria Rita, che facevi mmm, nel senso che pensi che ci sia? Mi scuso moltissimo ma io credo che dovremmo fare anche dire ancora una volta attenzione al virtuale perché è virtuoso, è utile, eccetera, ma io direi che per venire, spostarsi, avere un'esperienza, eccetera, non conviene farlo con un sito d'incontro. Io scusate, forse tante persone hanno trovato la soluzione della loro vita, io ne so di tanti e di tante che questa soluzione non solo non l'hanno trovata, ma hanno trovato grandi guai. Che cosa potrebbe essere successo a questa donna, Laura? Ora, appunto, come spiegava il collega, ricordare nel servizio è ancora avvolta nel mistero. Perché poi anche, Eleonora, una persona che scappa, che va via anche dopo una lite senza il telefonino. Noi sappiamo che oggi il telefonino è un'estensione quasi di noi stessi, cioè lo facciamo nulla senza portarci. Prima, no, addirittura, Valerio, prima di prendere le chiavi di casa o il portafoglio prendiamo il telefonino. Questo è proprio un istinto. E quindi a me sembra molto strano che si sia allontanata senza nulla, senza neanche contanti, soldi, ma appunto senza neanche il telefonino. E poi dopo tutto questo tempo, 60, oltre 60 giorni, no? E l'è stato trovato il cadavere oltre 60 giorni. Quindi di solito, no, le persone scomparse dopo così tanto tempo. Cioè è un mistero. Io non credo che ci sia però un'implicazione del compagno. Beh, c'è sicuramente un mistero. Bisogna aspettare anche l'esame delle telecamere. E anche l'autopsia penso sia stata già disposta. Non so se i risultati sono già arrivati. C'è un esame tossicologico, voi sapete che i tempi sono un po' più lunghi. Dice bene Laura, chi esce di casa porta il telefono. Soprattutto perché essendo uscita di notte, se ammettiamo che si sia volontariamente recata in quella struttura, che è disabitata e buia, il telefonino ha quella funzione della torcia, che in qualche misura ti aiuta. Quindi noi abbiamo degli elementi che provengono dalle dichiarazioni dell'uomo con il quale conviveva, ma l'esame autoptico, l'esame tossicologico sarà fondamentale. Grazie. Allora il nostro Maurizio. Maurizio Ricordari, per qualsiasi aggiornamento, ci richiedi la linea, però anche qui dobbiamo attendere. Maurizio, non si possono fare ipotesi se non si attendono i fatti. L'autopsia è stata fatta. Sì, che sia stata fatta e risulta... L'autopsia, dicevo, è stata già fatta. In realtà si attendono i risultati, si attende l'esito del tossicologico. E poi, Eleonora, lo sottolineiamo perché l'abbiamo raccontato in diretta. Proprio alcuni giorni fa, quando siamo tornati in diretta qui, abbiamo trovato per terra delle pillole, delle benzodiazepine che sono state aggiunte, proprio perché si cerca di capire se ci sia anche qualche altra spiegazione, naturalmente, che sia diretta o no, ma soprattutto si cerca di capire se Sara è arrivata qui da sola, perché questo è un elemento che ovviamente farebbe veramente la differenza. Grazie Maurizio. Allora, si chiude le nostre pagine.